Giochi strategici C'è uno che mi è stato consigliato Da un mio amico youtuber Che si chiama Neko Bolyuk Che saluto con tutto il cuore Che è lui che mi ha suggerito questo bel titoletto Dungeon Keeper Chew Lo vediamo per PC Kansonia Una terra lieta, ricca di luce e musica Facciamo tacere le loro voci lamentose Una volta per tutte Questa terra è difesa da Lord Darius Un avversario molto più pericoloso Di Lord Antonius Potrai sconfiggerlo solo imbrigliando Le forze della magia oscura Costruisci una libreria Per attirare gli stregoni Essi ti riveleranno i segreti Del mondo arcano Come da tradizione Si deve vedere prima la storia È ambientata in un mondo chiamato Underworld Prendiamo il controllo di un Keeper O anche addirittura Una creatura sopranaturale divina malvagia Che può controllare una sorta di mondo sotterraneo Che si fa chiamare prigione L'obiettivo è ovviamente conquistare praticamente tutti questi riami E uccidere gli eroi Prendere le gemme dei portali E insomma Che portano in superficie Però dobbiamo stare molto attenti Perché la storia è Molto semplice Ma posso dirvi semplicemente Che è più che altro accennata Ma vediamo ovviamente la grafica Come la tradizione del canale Allora Essendo un titolo del 2000 Non potete aspettarvi Chissà che graficona da paura E devo dirvi che è così Perché le ambientazioni come vedete Sono tutte viste dall'alto Con la proiezione di tre quarti Che del resto non sono proprio male Sono molto in stile Medievale Immaginario Con effetti di luce e ombra Certamente di buona qualità Ho notato Poi gli elementi presenti su schermo Ce ne sono abbastanza E riescono a riempire abbastanza bene Tutto uno scenario Potrei dire anche la stessa cosa riguardo i personaggi Che Devo dire la verità Non sono male Alcuni sono originali Alcuni sono fatti bene Alcuni sono un po' ripetitivi Ma possiamo accettarlo Questo fatto Del resto È un gioco proprio del 2000 E poi tra l'altro La cosa che si nota È che sono un pochino squadrati Ma possiamo perdonarli Ora dai Su Inizio 2000 Era questo il meglio Che si poteva tirare fuori da un computer Fortunatamente non ho notato mai Dei rallentamenti Per l'audio posso dirvi che gli effetti sonori non mancano all'interno del gioco Ce ne sono abbastanza Poi per quanto riguarda musiche di sottofondo Ce ne sono abbastanza buone e carine Adatte a questa atmosfera fantasy Con elementi un po' horror E devo dire che Non mi dispiace E sulla giocabilità Dungeon Keeper 2 cos'è? Una sorta di gioco gestionale strategico fantasy Con elementi divini In pratica Noi dobbiamo essere un Keeper O una creatura divina malvagia E la cosa interessante è che Per la prima volta qua Non vestiremo i panni dell'eroe buono e coraggioso Ma di un tipo crudele e malvagio Che esige rispetto dai propri sudditi E tenete presente che Non è facile cercare di andare avanti in questo gioco Per un semplice motivo Si presenta come un dungeon game Nel senso che dobbiamo costruire e amministrare Il nostro mondo Scavando sale E addirittura creando dei corridoi sotterrani E facendoli popolare da tante creature malvagie E anche mostri E poi tra l'altro Ogni stanza ha una propria funzione Per esempio può essere una che è dedicata allo stoccaggio dei tesori Uno ai dormitori per i mostri Un altro pollai che forniscono i mostri di cibo E anche addirittura sale delle torture Forse è la cosa più divertente di questo gioco E quando mandiamo i nostri seguaci In giro per la mappa Dobbiamo fargli trovare tesori e ori molto importanti Che ci serviranno ovviamente Per migliorare noi stessi Poi dobbiamo anche addirittura prendere libri In cui imparare degli incantesimi Poi portare in cui si possono far arrivare dei demoni Sempre più cattivi e potenti E anche loro avranno bisogno della paga settimanale E la loro propria scorta di cibo E devono anche addirittura riposare e divertirsi Ma tenete presente che durante il corso del gioco Saremo molto spesso invasi Da avventurieri in cerca di tesori O anche addirittura da eroi Che cercheranno di ucciderci Ma possiamo anche addirittura Corromperli e convincerli a passare dalla nostra parte Dandoci delle offerte in oro Oppure addirittura delle torture Però non dobbiamo ucciderli Sennò altrimenti abbiamo buttato via un'occasione E questo titolo È in pratica tutto quello che è il primo capitolo Ve lo dico già Ma presenta anche addirittura Qualcosina di meglio Ad esempio una grafica un pochino migliorata Ed eroi certamente molto più tosti Insomma Un gioco che sa essere certamente molto divertente Soprattutto se andate a questo tipo di strategici C'è solo per computer Se volete farlo funzionare Beh Potete munirvi di O il vecchio sistema operativo Windows XP O di un emulatore Per i vecchi sistemi operativi Dipende da voi Io ve lo consiglio Tra l'altro presenta Pensate che Dopo questo secondo capitolo Dove uscire anche un terzo capitolo E indovinate cosa è successo? L'hanno cancellato Che peccato Ciao Adesso rivendica il portale Così nel tuo reame Giungeranno nuove creature Pronte a combattere Ricordate Ogni stanza A differenza di Diciamo A differenza Della tana E Il futuro di un'altra stanza Devono essere per forza da 3x3 Per funzionare bene Possono essere anche Possono essere anche un lato Al muro Però Non avrebbe lo stesso effetto Quindi bisogna fare 3x3 Per essere sicuri che La stanza funziona La sala d'addestramento E' un luogo in cui i guerrieri Possono affinare le proprie abilità Un compito ben eseguito Ma addestrare le creature Ti costerà dell'oro Serve altro oro E là Pronto per essere